Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Ave a tutti. Grazie 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 a tutti. Ave a tutti. Grazie 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 a tutti. Santa Maria. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Salve Regina. Salve, a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. vive dei momenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. genito. Gesù Cristo. con lo Spirito, a tutti. Grazie a tutti. 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 e nell'unità. a tutti. 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 gli. a tutti. 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 che. che. tutti. invito. tutti. a tutti. a tutti. a tutti. 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 e tutti. che. tutti. 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 . tutti. . . . tutti. tutti. che ci fa agire, una fede che non ci fa fermare davanti a niente, ma molto più perché abbiamo questo abito annunziale che è molto bello, che ci fa fare una bella figura al banchetto, che è la vita eterna. Ecco nella prima lettura abbiamo visto questi cibi succulenti, ma la vita eterna, questo Regno dei Cieli è già presente qui in mezzo a noi, noi siamo nati e da quanto siamo nati siamo entrati a far parte di questo Regno dei Cieli e per vedere questo dobbiamo aprire un po' gli occhi, questi occhi della fede che ci dà sempre lo Spirito Santo e che ci dà sempre la Chiesa, perché è lì che è il Regno dei Cieli. Ognuno ha una sua formazione, ognuno ha una sua dedizione, ma questo è il Vangelo che ci dà oggi, questa carità, questo Spirito servizievolo, di fare tutto con il cuore, perché siamo imitatori di Cristo per gli altri. E' Cristo che ha dato la vita per tutti, anche il cristiano, cristiano che diventa un altro Cristo, dà la vita per gli altri nella carità, sapendo che ne ha il cento per uno quando sarà davanti a Dio. Ci mettiamo in piedi e professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre e Onipotele, Creatore del Cielo e della Terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i seti. Io da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato nel creato, nella stessa sostanza del Pano. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal Cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilano, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al Cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo del Signore, e il tuo Cielo è il Padre dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amo. Rivolgiamo le nostre preghiere al Padre perché asciughi dal nostro volto ogni lacrima e ci accolga al suo banchetto eterno, donandoci la salvezza e la felicità eterna. Preghiamo dicendo, ascoltaci Signore, perché la Chiesa annunci con gioia al mondo che Dio ha preparato per gli uomini un banchetto nuziale, la vita eterna e che li attende per condividere con loro la felicità. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché chi regge le sorti delle nazioni si orienti a pensieri e progetti di pace e di solidarietà, impegnandosi a costruire per tutti una società migliore. Ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Perché nel cuore di ogni uomo, catturato e oppresso dagli affanni del reni, rinasca la speranza nella misericordia di Dio e nella vita beata. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti coloro che sono stati colpiti dal Covid, per le loro famiglie, per tutto il personale sanitario che lavora per arginare la diffusione della pandemia, lo Spirito Santo, illumine le loro scelte e Maria, Madre della Salute, assicuri a tutti la sanità fisica e spirituale. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti noi, affinché ci rivestiamo degli abiti della fede, autentica e della carità operosa, della speranza che non delude. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Padre, oh Padre che ci hai raccolti nella Chiesa, comunità di credenti, rendici forti per affrontare le prove della vita, testimoniando al mondo che la fede nel tuo nome conduce alla consolazione, in attesa del banchetto eterno dei Cieli. Te lo chiediamo per Cristo nostro, Signore. Amen. Portiamo all'altare il pane e il vino per la celebrazione del sacrificio eucaristico. Il pane, frutto della terra, sazia la fame dell'uomo. Nel suo grande amore, Dio ci ha donato Gesù, chicco di grano, morto e risorto per diventare il pane della vita. Signore, il segno di questo pane che ti offriamo sia memoria del tuo dono, Cristo, pane spezzato per la vita del mondo. Con il pane ti offriamo il vino, segno della festa e dono della gioia. Aiutaci, Signore, a diventare nutrimento per il prossimo e calici di salvezza per tutti gli uomini. Rechiamo all'altare le nostre preghiere, quelle portate qui in Chiesa e quelle inviate da chi non è potuto venire. Scritte su foglietti di carta annodati, te li presentiamo quali nostri sacrifici spirituali. Tutto, Signore, riponiamo sul tuo altare. Tu accetta e benedici. Guarda questa offerta, guarda noi, Signore, tutto noi doffriamo. Per unirci a te nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita. Nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. Allora di gloria al nostro, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Donaci, oh Padre, accogli, Signore, le nostre offerte e preghiere, e fa che questo santo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede, ci apre al passaggio della gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amén. E il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. E i nostri inni di benedizione non accrescono alla tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva. Per Cristo nostro Signore. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. O Santa, nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene, Nel nome del Signore, O Santa, nell'alto dei cieli, Padre veramente Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse, Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendi la perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Crescenzio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati anche dei nostri fratelli defunti, Maria Clara, Mario, Elvira, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, ricordi adonaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Gennaro e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli e secoli. Amén. Obedienti alla parola del Salvatore, formate al suo divino insegnamento, osiamo dire Padre Nostro che sei in Cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tua potenza e la gloria, e il mio segno. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donna a lei unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi il regno nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Signore. Agnius Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, agnius Dei, cui tollis peccata mundi, donna nobis pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 sacrificio, donaci di comunicare alla sua stessa vita. Egli vive il regno nei secoli dei secoli. Amen. Ringraziamo Don Enzo, collaboratore parrocchiale di questa comunità, per le sue parole, per aver celebrato stasera per noi l'Equaristia e soprattutto per averci ricordato che l'abito del cristiano non è un abito firmato, che sta nelle vetrine. Il nostro abito è quello della carità, quello di essere caritatevoli verso gli altri come Cristo lo è per noi e noi attingiamo proprio a questa mensa della carità per poi portare quest'amore, questa misericordia, questa donazione agli altri. Ringrazio tutti quanti voi della vostra presenza, coloro che ci seguono su Facebook e sul canale Tele A Più. Do l'appuntamento al 24 di questo mese, che è il quarto sabato del mese, eccezionalmente ci sarà un sabato in più a Maria che scioglie nudi, perché in quell'occasione daremo il mandato, la benedizione, faremo una celebrazione un po' particolare a coloro che hanno aderito all'associazione, un'associazione privata, Maria che scioglie nudi, che garantirà tutti i giorni, una volta al mese, a secondo delle proprie disponibilità appunto, che le persone indicheranno, il rosario e quindi pregheranno in questa chiesa per tutte le intenzioni che ci vengono appunto offerte, portate qui ai piedi. Quindi tenete presente che ci sarà sempre qualcuno che prega per noi, ecco, questo rosario costante, perché Maria, che è nostra madre, ci deve ascoltare, deve ascoltare che abbiamo bisogno di lei, soprattutto in questo periodo così particolare, così drammatico per tutto il mondo, per questa pandemia. Allora affidiamoci tutti alla Madonna, do l'appuntamento quindi a sabato 24 alle ore 11 Tosario, 11.30. L'associazione avrà dei posti riservati e poi ci saranno altri posti per chi vuole partecipare all'evento, sempre obbligatoria, la prenotazione quindi appena esce l'evento, quindi da domani, uscirà l'evento, lunedì potete già telefonare chi vuole partecipare, oppure ci seguite su Facebook, oppure ancora venite durante la settimana, chi con tranquillità, la chiesa è sempre aperta dalle 7.15 del mattino fino alle 20 di sera, orario ininterrotto. La domenica concediamo qualche ora di pausa per il pranzo domenicale perché anche i sacristi devono stare con le loro famiglie, quindi chiudiamo all'1.30, alle 13.30 e apriamo poi alle 17 fino alle 20. Ecco, quindi chi vuole può sempre trovare quell'occasione per stare un po' in tranquillità anche durante la settimana e pregare Maria che scioglie nudi. E adesso insieme recitiamo la preghiera a Maria. Preghiera alla Vergine Maria. Vergine Maria, madre di bell'amore, madre alle cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dalla infinita misericordia che esce dal tuo cuore. Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quando mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo figlio Gesù, mio salvatore, dicevi oggi questo. Madre mia, è inutile dire quali siano i miei problemi. Tu sei le mie sofferenze, aiutami ad essere forte. E sciogli i nodi che tu sai. Prega Francesca. Vergine Maria che sciogli i nodi, ti affido sempre il mio desiderio più grande di incontrare una persona veramente buona che possa portarmi all'altare. Prega Amma. Madonnina mia, fa che il mio lui cambi per sempre, tanto da salvare il mio matrimonio. Prega Petronilla. Ti prego Maria, voglio diventare madre. Prega Daniela. Dolce Madonna mia, tu sei tutto e sai di cosa ho bisogno per tornare a stare bene. Tienimi tra le tue braccia. Prega Maria, grazie. Intercedi presso Dio. Sana mia figlia. Tu già lo sai. Prega Maria Angela. Maria che sciogli i nodi, non credo più che il nodo che tanto è il mio desiderio più grande di incontrare. Per quanto ti ho chiesto di sciogliere si possa sciogliere, oramai è passato tanto tempo, ma per la fede che ho, ti chiedo ugualmente di intercedere per me. Madonnina mia, fammi stare bene. Stammi vicino. Tienimi stretto tra le tue braccia e non mi abbandonare. Prega Carmine. Madonnina, solo tu puoi sciogliere il nodo che mi affligge. Ti chiedo di scioglierlo, ti prego, ascoltami. Prega Agata. Sconfiggi questa pandemia, prega Luisa. Madonnina mia, ti ringrazio per tutto quello che fai per me, prega Claudio. Vergine Maria, fa che l'esito dell'intervento di Carmelina sia risolutivo. Vergine Maria, sciogli i nodi che ostacolano tutto. Prega Enza. Maria, Madre Nostra, sciogli i nodi della malattia di Fabio. Guariscilo, mamma mia, prega Stefania. Madre mia, sciogli questi nodi che rendono la mia vita disperata. E soprattutto, sciogli il nodo di questa pandemia, prega Teresa. Liberaci tutti dal maligno, prega Carmela. Maria, aiutaci a realizzare il nostro sogno di diventare genitori, prega Francesca. Madre Celeste, guarisci le mie sofferenze fisiche e psicologiche. Illumina il mio cammino, fa che a mio fratello martedì vada tutto bene il controllo medico. Grazie, Madonnina mia. Prega Francesca. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te, sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato, sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta, preservami, guidami, proteggimi. Sì, il nostro lugio, Maria che sciogli i nodi, prega. Sì, benedetto Dio Padre onnipotente, tu in principio hai creato la luce e hai acceso nell'uomo, fatto a tua immagine, la scintilla del tuo amore. Con una colonna luminosa, hai guidato il tuo popolo errante nel deserto, verso la terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio a portare nelle nostre tenebre l'ardente luce della verità e della grazia. E dopo la sua gloriosa ascensione, hai effuso la fiamma del tuo Spirito sulla Chiesa nascente, lo Spirito che procede da te. Ha ricolmato la Vergine Maria della tua grazia, rendendola grembo dell'unigenito Figlio, con lei che con la sua intercessione scioglie ogni nodo e ci ottiene di perseverare nella vita di fede. Dio Onnipotente, fonte di ogni dono, per l'intercessione della tua Santa, ti offriamo questi nodi, segno tangibile delle nostre preghiere. Il loro fuoco sciolga l'incenso, che scende a te come sacrificio di soavo d'ure, e divampi nei nostri cuori l'incendio della tua carità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore misericordioso per l'intercessione di Maria, nostra Madre e Regina, vi illumini e vi comunichi il fuoco dello suo Spirito, perché possiate vincere le suggestioni del male e gustare la forza del suo amore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e su di voi rimanga sempre. Amen. E viva Maria! Viva Maria! E con questo, viva Maria, termina la celebrazione della Santa Messa nel sabato dedicato a Maria che scioglie i nodi. Ritorniamo sui canali social della parrocchia Santa Maria in Coronatella nella Pietà dei Turchini. Sabato 24 ottobre, ultimo sabato del mese, secondo gli orari al mattino, a partire dalle ore 11. Il fuoco che divampa, divampi anche come fiamma ardente nella nostra vita. Mediante l'intercessione della Vergine Maria, vi auguriamo da Napoli una buona domenica a tutti. La voce gradiosa appa, la madre di Dio, la Vergine del Cielo. Laudate, laudate, laudate Mario. Laudate, laudate, laudate Mario. Laudate, laudate Mario. Laudate, laudate Mario. Laudate, laudate Mario. 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 Grazie a tutti